Young Vision è un progetto ideato e realizzato da Risorse Cooperativa, cofinanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con Forward Agency, Riviera Network, Fondazione For Art, Comunità Montana dei Monti Azzurri, Comune di Macerata, Comune di Loro Piceno e Comune di Serra Petrona. La strada della luce conduce al Palazzo della Favolosità. La strada della Favolosità 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.